Buon poveriggio, video spesa Lidl succulento, quindi sorvolo sul pane che è rimasto sempre quello di semola e quello di segale. Due litri di latte che ho preso perché scontato a 75 centesimi al litro. Ho preso due pacchi di pasta, sempre quella prodotta in collaborazione con gli agricoltori col diretti italiani, 100% grano lucano, finocchi, cavolini di Bruxelles, ho preso gli affettati perché erano in offerta, mortadella di Bologna con pistacchi dop di Bronte e l'antipasto nostrano, 100% carne italiana, la provenienza è Parma, quindi la capitale dei salumi, io vado tranquilla, mi torna bene perché si conservano più a lungo, soprattutto se devo fare poi le focaccine e i panini imbottiti per i ragazzi. Ho ripreso della linea certossa questi grissini salati con olio extravergine di oliva salati in superficie perché hanno il sale grosso, questi granelli sono molto gustosi per fare aperitivi ed altro. Invece per le merende, le colazioni, le fiorentine prodotto da forno dolciario, questa pasta sfoglia al cui interno c'è questo cuore di marmellata di albicocchi scaldate al forno, ogni tanto i ragazzi me le richiedono e quindi le vedrete spesso. A 85 centesimi era in offerta il succo di frutta, io ho preso variante pesca dello yoga, una marca ormai secolare direi, conosciuta e rinomata, sono sempre buoni e li prendo volentieri. Le arance che sono state utilizzate per la produzione di questo succo sono prodotte da aziende agricole certificate che fanno parte di una cooperativa, di un'alleanza, qui dice, che contribuisce a migliorare i diritti e la qualità di vita dei coltivatori, a conservare le risorse naturali e proteggere il mondo animale e vegetale. C'è un proprio un sito che è questo, la certificazione, vedete la rana verde, questo certificato di garanzia e il fatto che il succo sia 100% frutta, derivante da frutta, mi ha proprio fatto dire sì, ti prendo per un litro e mezzo di prodotto vi saprò dire. Ottimi anche i tomini con lo spec, sono veramente dei tomoni belli grossi, vi lascio le foto perché ovviamente quando registro in camera non porto qui i prodotti da frigo. Ho preso anche a 1,99€ la salsa di noci, mi è ritornato in mente il tomino perché l'ho visto nello scontrino e non vi faccio vedere la carne perché comunque l'ho presa, ho preso delle cosce di pollo, delle bracciole che erano in offerta. Questa non l'ho mai provata, vi menziono già in netto anticipo la salsa almeno da me non c'era al tartufo, viene rivenduta una variante nel banco frigo e un'altra è proprio dove trovate queste salse, c'è anche l'anduia piccante, i sughi all'arrabbiata, insomma le particolarità italiane. La salsa al tartufo ve la promuovo a pieni voti, è già stata sperimentata, degustata, approvata da tutti i palati della famiglia perché è molto golosa, è molto peccaminosa, soprattutto accompagnata su dei cracker simili alla settimana londinese, vi ricordate? Sono una bontà come proprio ingredienti che ben si sposano, ho già la colina in bocca. Proverò la salsa di noci, sicuramente ritornerò a prenderne altre scatole, la commessa mi ha già detto che ne aveva fatto incetta ieri per il suo bimbo, che i prodotti favorina vengono riforniti perché da me la scatola in latta, il musichiere con le ruote che girano e il caillon incorporato era già terminato. Ho preso l'ultimo calendario dell'avvento io, quello proprio a casetta per Filippo che ora vi mostro e questi stavano andando a ruba. Nel lato inferiore sono proprio avvolti da questa glassa cioccolatosa e qua c'è proprio il biscotto lomino pan di zenzero che io amo con gli Smarties e la glassa per decorare. È un'idea simpatica, è una novità, ho visto già anticipata da Piccola Stella su Instagram che saluto e ringrazio perché su Instagram devo dire che le ragazze interagiscono tantissimo, questa collaborazione tra blogger, tra donne mi piace tanto, non solo Martina C87 ma Piccola Stella e tante tante altre, vedo proprio che è un modus operandi, uno stile proprio di collaborazione che non ritrovo spessissimo su YouTube, a parte i casi che voi sapete delle mie amiche elette, siamo un po' più restie, ognuno coltiva il proprio orticello, invece su Instagram devo dare merito e applauso a queste ragazze perché sono di una dolcezza infinita, sono proprio aperte a confronti, a scambi di opinioni in modo tranquillo, mi piacciono tanto, quindi un bacio e un saluto a tutte le colleghe di Instagram, queste sono veramente una bella novità. Nonostante siano già usciti i video spesa Lidl, non ho visto ancora recensiti questi biscotti al burro che sono una libidine, chi mi conosce sa che ogni anno li prendo, hanno proprio le figure tipiche, mi viene da dire olandesi, comunque i biscotti olandesi hanno queste forme che ripropongono delle figure contadine sia maschili che femminili, anche qui hanno la glassa al cioccolato come base, non trovo lo scontrino e non trovo il prezzo di riferimento quindi ma costano sull'euro e 99, tra l'altro sono presenti come lo scorso anno le stelline molto deliziose da appendere all'albero che contengono le praline di cioccolato a latte fondente con l'aggiunta di liquore, mi avevo suggerito di prenderle come presenti perché sono veramente simpatiche, un'idea carina a poco prezzo sia per colleghi maschi sia per colleghe soprattutto in quelle aziende dove si è in molti e a 5 99 proprio perché era l'ultimo e conoscendo il Lidl, il mio Lidl che ha esaurito prima di tempo addirittura gli Stikiz ho pensato che comunque questo lo avrei preso, l'ho visto già da Rossella Logico Bio, l'ho visto anche Alisa, l'ha preso nel mondo di Annalisa, questo ovviamente Filippo lo aprirà il primo dicembre, gliel'ho fatto vedere ma non lo scarto a 5 99 così in 3d è molto bello. i biscotti al cocco, cioè questi sono buonissimi, sono frollini con cocco e spezie, ci sono anche in variante mandorla ma secondo me questi sono spaziali e poi la scatola vi rimane, i savoiardi sardi a 1 euro e 79 nel caso mi venisse la voglia di un tiramisù, a 4 euro e 99 ci sono le tazze che sono di una simpatia estrema, sono veramente belle queste per fare alle colleghe, ha un capo simpatico, ce n'è una tutta nera con la stella e sempre su questa fantasia un'altra tipologia ma devo dire che rimane la tazza che serve sempre, c'è un Babbo Natale di cioccolata, una caramella e due cioccolatini, direi che 4 euro e 99, 5 euro di pensierino va più che bene, avete la tazza molto graziosa, spiritosa, ricordo un po' Mordillo, vi ricordate le vignette di Mordillo, molto carino, ho preso questa che mi sembra veramente una chicca come pensierino di Natale, a 1 euro e 99 un tripudio viola, questa Erika meravigliosa, una macchia che ricordava proprio la prateria, la brughiera, meravigliosa, non ho resistito, ne ho presa una per ora e amo averle sul balcone, peccato perché ne ho presa solo una ma ero di corsa, a 1 euro e 49 ebbene sì è tornato lui il guanto struccante per il viso e anche per il corpo, io ne ho presi un po' perché questo è un ottimo pensierino per Natale, io l'ho pensato abbinato anche ad un detergente solido della pH bio che può essere l'olio corpo o il bagno doccia, può veramente essere un cadeau molto carino, molto apprezzato soprattutto per le amiche che sono sensibili al tema skin care e body care, quindi questa è una garanzia, ne avevamo già parlato, ottimo ottimo, l'ho preso in quantità considerevole, c'erano vari set per il trucco, non ho preso né i pennelli con il piegaciglia perché ne ho già un paio e non me ne serve un terzo, tanto uso raramente, non ho preso il porta sponge perché io le ripongo in un cassettino che ho in bagno ho preso invece questo set per il trucco che include le due pinzette per i punti neri, il dischetto struccante, la spugna per la pulizia del viso e la pinzetta per le sopracciglia, quindi queste sono forse da inserire all'interno del vostro indice e da massaggiare, credo, presumo, queste spugne erano uscite tempo fa da Lidl e mi erano piaciute tantissimo e quindi le ho riprese soprattutto per lei, questa ricorda tanto una uscita da Kiko, ve ne parlerò poi meglio. Mi sono dimenticata di farvi vedere i guanti colorati che sono serviti poi in periodo di lockdown però sono stati riproposti e li ho ripresi in taglia M perché almeno vanno bene grandi e piccini. E poi una novità non presentata in volantino che mi è stata anticipata dalla mia spia Didi che saluto e ringrazio, lei quando è di turno avere queste novità mi messaggia sempre, ringrazio anche piccola stella perché mi ha girato una foto in cui mi presentava i prodotti in questione grazie ad una sua follower e per quello che vi dico il potere delle donne, la collaborazione aiuta insomma tutte quelle che sono malate di body care e skin care, è uscita questa linea che è un'altra cosa, è uscita questa linea, è uscita questa linea, è uscita questa linea e questa linea ricorda tantissimo la linea di Dove di cui io ho il Deo il getto sembra identico, questo è più nocciolato, è un cocco molto particolare, non è un cocco estivo me l'ha scritto anche qualcuna di voi, mi diceva che ha questa nota quasi nocciolata anche di mandorlato, pralinato ma non è per niente stucchevole, vi devo dire che proprio a primo naso io preferisco la profumazione della Sien perché è adattissima per il periodo qui sembrate ricoperte da una glassa buonissima, avete presente le suocere come le chiamate voi le noccioline che hanno quella glassa, quella profumazione glassata della nocciola ha esattamente questa profumazione il che non è male nel periodo autunnale ed invernale, questa è la body lotion sono 300 ml di prodotto, ragazze sa di nocciole, inizialmente pensavo di aver spalmato la crema sopra al Deo e di sentirne la profumazione vaporizzata e invece sa proprio di nocciole la crema corpo se vi volete fare leccare dalla testa ai piedi, momento hot e qui parte la censura per i più piccoli se vi volete fare leccare dalla testa ai piedi con questa crema riuscirete nell'intento ragazze adesso che viene l'inverno che si sta bene sotto le coperte questo potrebbe essere un prodotto interessante un cocco autunnale, è un cocco glassato autunnale quindi io vi direi delle profumazioni inusuali io pensavo la classica profumazione al cocco ma Lidl ci stupisce con questa fragranza nuova, golosa, appetitosa e quindi per i vostri momenti di puro piacere e non solo, non mi riferisco solo al palato qui il signor Lidl oggi ha accontentato un po' tutti grandi e piccini quindi spero veramente che questo video spesa che sta degenerando quindi è ora di chiudere possa avervi intrattenuto piacevolmente noi ci riaggiorniamo perché ovviamente qui favorina sfornerà altre gollosità e mi toccherà pedalare chilometri e chilometri io vi mando un bacio grande grande e noi ci vediamo al prossimo video, ciao! 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 Ciao!